Durante la registrazione non è possibile per noi elidere i nominativi dei partecipanti che quindi risulteranno registrati. L'unica possibilità per chi non volesse apparire all'interno della lista è quello, purtroppo non abbiamo alternative tecniche, di uscire dalla stanza. Detto ciò io darei avvio alle danze, sono Denis Isaia, curatore per il Contemporaneo del Marte e stasera ho il piacere e anche l'onore di introdurre finalmente un panel tutto il femminile. Perché abbiamo con noi, intanto parliamo di due donne, due donne straordinarie, la donazione Rita Levi Montalcini che ha riguardato per l'appunto parte del patrimonio artistico della sorella Paola Levi Montalcini. E lo facciamo, dicevo, con altre tante donne, con l'ingegnere Piero Levi Montalcini che è il nome tutelare dell'eredità artistica e culturale della famiglia Montalcini, nonché presidente dell'associazione Levi Montalcini. Karen Zacatullo che è il funzionario del Marte che ha ereditato la pratica di donazione Levi Montalcini e ci racconterà anche poi come lei stessa, grazie ai contatti con l'Istituto Centrale per il Restauro, ha avviato questo difficile restauro delle opere di Paola Levi Montalcini, il centro poi del nostro dialogo odierno. Con noi anche c'è Angela Rorro, già curatore per l'arte contemporanea presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, oggi funzionario dell'Istituto Centrale per il Restauro, nonché docente presso la Scuola dell'Istituto. Infine, grazie di Cesare, anche lei professoressa presso l'Istituto Centrale per il Restauro, con Fabiana Di Lorenzo, già allieva restauratrice nel percorso formativo professionalizzante e che è una delle protagoniste di questa grande operazione di studio e poi entraremo nei dettagli. Ecco, prima di lasciare la parola all'ingegnere Piero Levi Montalcini, permettetevi di introdurre brevemente il contesto in cui nasce questa occasione e la mostra, una mostra che il MART ha dedicato alla donazione Rita Levi Montalcini e quindi a un nucleo ridotto di opere di Paola Levi Montalcini. Questa mostra è parte di un gruppo di mostre raccolte sotto un titolo ombrello che si intitola per l'appunto Dialoghi sulla modernità e che comprende anche altri due focus, il focus su un'altra donazione che da poco è stata ingressata nel museo, la donazione Caizzi, una donazione piccola di una collazione ridotta ma importante perché denota un cambiamento nel gusto che avviene nella media e alta borghesia milanese a partire dagli anni 60 e 70 e questo avviene soprattutto grazie all'esperimentazione degli artisti anche di Paola Levi Montalcini di cui ci parlerà per l'appunto Angela Roma. Bene, questo gruppo di focus si chiude poi con un approfondimento su un artista contemporaneo romano che si chiama Pescechete di cui abbiamo parlato la scorsa settimana in quelli che abbiamo definito i Dialoghi e la Trementina, quindi un incontro per solo pittori, diciamo così. Adesso torniamo invece alle Levi Montalcini, io lascio con grande piacere la parola a Piera Levi Montalcini che dovrebbe essere con noi, forse non riesce ad attivare la telecamera ma la sentiamo comunque. Sono con voi ma non funziona la telecamera. Bene, ingegnere l'ascoltiamo con piacere anche se non la vediamo. Grazie infinite, grazie al Mart per questo lavoro che ha fatto e che sta facendo e per aver aperto questa mostra sulle opere di Zia Paola, una delle pittrici più eclettiche secondo me del Novecento. Una persona che come diceva la Zia Rita non si è mai clonata, che ha sempre sperimentato modi di pittura diversi, mondi diverse e ha lasciato un numero di opere molto elevato. Io spero di riuscire un giorno a fare una mostra importante, spero di riuscire soprattutto a catalogare tutto quello che ho e tutto quello che è in giro, perché in giro ci sono altre opere che sono state vendute in realtà molto poche perché Zia Paola era uno di quei pittori che aveva la fortuna di poter dipingere senza dover ricavare un utile dal lavoro che faceva e quindi per lei la pittura era studio e estrinsecazione di se stessa e passata da un'arte all'altra in una maniera continua e studiando sempre ed essendo in contatto sempre con tutti i pittori italiani. Una pittrice poco conosciuta per ora che mi auguro di riuscire a portare all'altezza di Zia Rita insieme a mio padre che è stato un grande architetto, anche lui col dono della matita enorme, forse più della matita che non della pittura, ma perché non ha avuto tempo essendo architetto e lavorando anche nella progettazione, anche lui ha sperimentato tutte le correnti architettoniche della sua epoca ed è stato un innovatore anche lui. Devo dire che i tre fratelli sono secondo me la conferma che l'arte e la scienza vanno di pari passo, che non esiste arte senza scienza e non esiste scienza senza arte. La Zia Rita amava definirsi l'artista della scienza e io dico che Zia Paola è la scienziata dell'arte e insieme hanno fatto veramente un binomio probabilmente irrepetibile. Quindi mi ritrovo ad avere un lavoro e una responsabilità secondo me molto grande, anche se oggi certi tipi di conservazione non vanno più di moda, io mi sento obbligata a mantenere questo patrimonio e a farlo conoscere perché penso veramente che abbia segnato un'epoca e soprattutto mette in luce come dei bambini perché veramente papà e Zia Paola hanno incominciato a disegnare a tre, quattro, cinque anni in modo che io non saprei neanche da che parte incominciare, quindi sono delle doti che sono state poi valorizzate nel tempo e che non mi sento di lasciar cadere. Mi auguro che mi aiutiate tutti, è quello che chiedo sempre a tutti, di aiutarmi in quest'opera perché è veramente molto facile, è molto difficile. Pensate che di Zia Rita ho fin a duemila lettere, le prime che ho trovato, poi ci sono tutte le altre che devo ancora raccogliere. Il patrimonio di Zia Paola è altrettanto importante e quindi temo che questo scorcio di vita che mi resta non sia sufficiente per portare alla fine l'opera e mi auguro che qualcuno la voglia continuare. Ringrazio ancora tutti, ringrazio il Mart, ringrazio quelli che mi seguiranno nel racconto dell'opera di Zia Paola perché c'è bisogno di farla conoscere. Tra l'altro c'è una cosa che pochi sanno è che Zia Paola era anche una grande propugnatrice dei diritti delle donne e ha scritto una lettera che è molto interessante per la biennale del 54 in cui sono state escluse tutte le donne e lì rivendica la capacità delle donne di dipingere e di essere all'altezza dell'espressione maschile. Quindi due donne che hanno combattuto e due donne che hanno veramente scritto un pezzo della nostra cultura e della nostra storia. Grazie infinite e chiedo aiuto. Grazie mille. Buon proseguimento di questo webinar. Grazie. Grazie, grazie molto ingegnere anche per averci ricordato di questa lettera che credo noi tutti, di cui noi tutti ignoriamo l'esistenza. Io passo ora la parola alla collega Clarenza Catullo, responsabile dell'ufficio Register. Chiedo a Clarenza di riattivare il microfono perché vedo che ha il microfono spento e quindi procedere nella sua relazione. Grazie Dennis, grazie agli nostri ospiti intervenuti per questa occasione che ritengo sia veramente molto preziosa, molto preziosa per tutti e da vari punti di vista. Devo dire che cavalco con grande entusiasmo questa idea dell'arte al femminile. Bisogna dire che la cosa incredibile è che l'altra collezione che veniva citata precedentemente da Dennis, anche quella è una donazione fatta da una donna. Quindi evidentemente l'entusiasmo e la forza che sono nel nostro genere evidentemente sono portatrici di cose esteticamente importanti e valide. Per quanto riguarda la donazione, anzi scusatemi, l'ascito in vita di Rita Levi Montalcini, e questo nasce grazie ad un incontro fra la prima direttrice del MAPE, la dottoressa Gabriella Belli e Rita Levi Montalcini in visita al museo. ne consegue, dopo questa visita, la decisione di eseguire questo lascito in vita, con delitto di usufrutto peraltro, da parte di Rita Levi Montalcini, delle opere di sua sorella Paola. Poi appunto, purtroppo, a un certo punto, ahimè, Rita Levi Montalcini viene a mancare e quindi le opere vengono fatte arrivare qui al MAPE in museo. E io ne, appunto, comincio ad interessarmi alla verifica delle opere che facciamo sempre, ovviamente, quando entrano nelle opere in museo. e l'idea del restauro di queste opere viene soprattutto grazie alla mia amicizia con Angela Rorro, che in quel momento lavorava appunto all'ICER, l'Istituto Centrale per il Restauro a Roma. e si porta avanti quindi questa, grazie ad Angela, questa idea di restaurare una selezione di opere che possono avere opere appunto di arte contemporanea che siano caratterizzate da una tecnica e da un supporto, diciamo, diverso da quello tradizionale. e quindi in questo caso specifico un supporto di pellicola su perspex o su legno che chiaramente permetteva a chi e poi avrebbe affrontato il restauro un approccio di ricerca evidentemente nuovo, diverso e più, diciamo, interessante da un punto, diciamo, di ricerca specifica del lato conservativo. Allora, al fine di mettere a disposizione queste due opere all'ICER per questo restauro che rientrava in un discorso di corso di laurea, abbiamo appunto scelto due opere, due opere nel deserto e vortice figura che dopo vi verranno mostrate dal, appunto, dal dottoressa di Cesare e dalla Fabiana sono appunto due opere molto particolari perché la loro tipologia è proprio quella di essere delle opere fatte su, con l'utilizzo, diciamo, della pellicola che cosa, secondo me, rende molto interessante queste opere e soprattutto il restauro che ne è conseguito poi magari grazie di Cesare ci dirà se ha ragione o no, ma noi, anzi non tanto noi, quanto le restauratrici e appunto la dottoressa di Cesare che hanno portato avanti questo lavoro, ricordo che le restauratrici in effetti sono due, Fabiana Di Lorenzo e Michele Storari in effetti appunto l'esito finale di questo restauro ha fatto sì che queste due opere potrebbero essere considerate quindi molto prima un esempio di non-fungible token, perché questo? Perché alla fine del restauro mi hanno detto guarda Clarenza, la situazione conservativa nelle opere è molto particolare, le opere sono molto delicate hanno già purtroppo una strada che porterà verso una decadenza molto probabilmente veloce e in effetti è stato così perché purtroppo, proprio alcuni mesi fa con Michela, ci siamo messi di fronte ad una delle due opere ci siamo dette, mamma mia, è iniziato il percorso appunto della decadenza del materiale e quindi intelligentemente cosa hanno fatto le nostre restauratrici? Hanno riportato, hanno fatto una copia digitale delle due foto in modo che, e qui ho il dischetto, quindi è proprio un non-fungible token e dando quindi a noi, al Mark, la possibilità nel momento in cui queste opere purtroppo per la tipologia anche della tecnica che è stata usata dovessero deperire totalmente e scomparire noi comunque avremo sempre la possibilità di rifarle di riproporle e quindi in effetti sono opere che non spariranno assolutamente mai nel tempo ecco, io mi sono molto entusiasmata a questo restauro perché trovo che sia stato veramente molto interessante vedere l'approccio, vedere l'approfondimento e vedere come il problema è stato affrontato e tutto sommato è anche stato risolto, devo dire, molto brillantemente di pari passo mi sono anche molto interessata a quelli che sono stati gli esiti dell'approfondimento storico-critico fatto da Angela Roro perché sono emesse delle cose sull'artista che sono molto interessanti per la comprensione sia dell'artista ma anche delle scelte diciamo proprio tecnico-artistiche fatte dall'artista stessa nel momento in cui ha fatto queste opere tengo a sottolineare che il lascito è fatto di vari pezzi quindi abbiamo sicuramente un nucleo molto sostanzioso di opere appunto su, quindi pellicole, su pezzi, dipinte o parzialmente traslucido o lucido e poi abbiamo anche delle cose tradizionali come per esempio degli oli su tela o un olio su faesite e tutte le opere sono opere di notevoli dimensioni sono opere molto, non dico imponenti ma di dimensioni importanti non ho molto più altro da dire anche perché penso che la cosa migliore sia lasciare il campo proprio a chi il lavoro lo ha fatto che ce ne può parlare e che ci può far capire appunto in modo più approfondito e chiaro l'importanza di questo restauro ecco, forse l'unica cosa che vuole dire è questo l'importanza di questo restauro e anche in un altro concetto personalmente io non credo si possa parlare sempre di restauro di arte contemporanea per me l'arte contemporanea è manutenzionata e in genere la manutenzione viene fatta in un dialogo che ci deve essere fra committente, artista e restauratore nel caso della Levi Moltancini abbiamo fatto un restauro diciamo ahimè in absentia ma penso onestamente che l'artista sarebbe stata ugualmente molto contenta dell'esito ecco, in questo caso si può parlare di restauro perché purtroppo la manutenzione non avrebbe potuto dare un esito o comunque l'esito sperato proprio a causa della condizione delle opere stesse ma di questo vi racconterà tutto appunto Angela Rorro e grazie di Cesare grazie mille grazie a Clarenza per la sua intraprendenza e grazie anche ad Angela per la sua affabilità e l'altrettanta intraprendenza che ha mostrato nelle relazioni con il museo Angela se vuoi illustrarci sì buonasera a tutti cerco adesso di condividere il mio schermo lo vedete? Dennis mi dai una risposta? sì, 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 ti confermo che lo vediamo puoi proseguire allora quindi io attraverso pochissime immagini e 10 massimo 11 minuti racconterò qualcosa di questa meravigliosa artista certamente pochi minuti non bastano per presentare un'artefice così interessante e complessa come Paola Levi Montalcini peraltro come diceva l'ingegnere, la nipote ancora troppo poco studiata per il valore che ha avuto ma se dovessi trovare tre aggettivi per qualificare la sua arte direi intelligente, coraggiosa e sperimentale di una sperimentazione che non conosceva confini e adesso vado diciamo a introdurre l'artista magari per chi la conosce dirò purtroppo delle cose note mi scuserete ma credo che prima di lasciare la gran parte dell'intervento a Grazia De Cesare e Fabiana Di Lorenzo che hanno lavorato sull'opera insieme a Michela credo che valga la pena contestualizzare queste due opere all'interno del percorso dell'artista e questi 10 minuti spero servano proprio a questo quindi dunque vedete scusate un attimo avvio la presentazione che non si avvia eccola vedete qui alcune immagini per presentare l'artista Paola Levi Montalcini nasce a Torino con la sorella gemella Rita nel 1909 dal 1928 frequenta lo studio di Felice Casorati dove espone insieme ad altri artisti nel 1931 partecipa alla prima edizione della Quadriennale di Roma e a successive sei edizioni fondamentali per la sua maturazione artistica sono gli incontri con Italo Cremona pittore e scrittore che ne segue l'evoluzione fin dal 1934 stimolando nella pittrice l'interesse per l'elemento magico e surreale e con Giorgio De Chirico che nel 1939 scrive una monografia sugli esordi dell'attività creativa della pittrice nella quale individuava il carattere dell'artista e della sua poetica e vi leggo una breve frase di Giorgio De Chirico che dimostra diciamo la veggenza che aveva avuto nel 1939 lui diceva la pittura di Paola Levi Montalcini si presenta spoglia ad ogni debolezza femminile di ogni facilità e di ogni superficialità dotata di un grande temperamento pittorico non avente altra meta che di lavorare e di dipingere sempre meglio essa segue instancabilmente la sua meta con gli occhi ben aperti sul mondo decisa a perfezionare e a sviluppare senza posa il suo mestiere seguendo nel tempo stesso il suo sentimento di artista e qui vedete alcune immagini di Paola e un dipinto del 1939 proprio appartenente a questa fase narrata da Giorgio De Chirico l'aperta critica verso il regime e l'evanazione delle leggi razziali costringeranno Paola Levi Montalcini nei primi anni 40 a trasferirsi a Firenze la guerra e le persecuzioni razziali sono le sole parole con cui Paola ricordò il periodo di stasi creativa dalla quale pensava che non sarebbe più uscita il conflitto aveva spazzato via tutto e tutto sembrava aver cessato di esistere come prima perché, sono parole di Paola noi stessi non eravamo più quelli di prima Paola invece però riuscì a riprendere la sua attività nel 1945 allestendo una mostra personale a Firenze nella Galleria Alfiore e l'anno successivo tornata nella sua città natale presso la libreria del Bosco ma il suo modo di approcciarsi all'arte aveva subito un capovolgimento che la condusse gradualmente alla fine degli anni 40 al linguaggio astratto nei primi anni 50 partecipò al MAC Movimento di Arte Concreta e nel 1956 fu a Parigi per frequentare lo studio di incisione di Stanley William Eiter l'atelier 17 che fu un luogo di importante sperimentazione per molti artisti dell'epoca quindi, dicevo, luogo di sperimentazione e ricerca di nuove frontiere espressive nei primi anni 60 Paola si trasferì a Roma abbandonò la pittura per cimentarsi con nuove tecniche e materiali differenti qui inaugurò la fase delle sperimentazioni fotografiche nel tentativo di superare il soggettivismo del segno vedete in questo incredibile autoritratto del 1965 come l'uso di una radiografia unita alla tecnica fotografica dove la stessa si era ritratta poi indurrà molta parte della critica a pensare addirittura a un'anticipazione di quanto farà di lì a poco all'inizio degli anni 70 la cosiddetta avanguardia femminista pensiamo a Cattila Rocca per chi la conosce ma in questo caso la volontà di Paola non era tanto quella ma quella di accostare graficamente il dato reale e neutro dello scheletro alla propria immagine in Paola Revi Montalcini il mezzo fotografico sembra assumere una valenza autonoma e personale anche quando viene impiegato insieme alla pittura su tela la critica è rilevato e messo in risalto l'utilizzo che ne fa l'artista come una conquista anticipata rispetto ad alcune diciamo correnti successive le sue opere della prima metà degli anni 60 rendono conto di una frequentazione della fotografia come una sperimentazione avente preciso carattere di novità praticata a Roma e sviluppata con la collaborazione tecnica dei suoi assistenti due fratelli Gentile che la supportarono nella sua attività di realizzazione pratica delle stampe i montaggi su tela di cui qui ne vedete uno costituiscono l'esito di una riflessione molto profonda la fotografia permette a Paola di attuare un distacco dell'elemento della realtà controllato da un atteggiamento più razionale che emotivo questo atteggiamento la pone su un piano scevro da implicazioni di carattere appunto di avanguardie femministe dove il dato della corporeità fisica quindi se presente e restituito come immagine anatomica neutra di struttura scheletrica in accostamenti che utilizzano forme di rappresentazione del dato reale ed elementi puramente grafici quindi nelle lunghe ore scusate passate spesso fino a notte fonda come ci ha raccontato Angelo Gentile nello studio di Roma Paola diede avvio da prima alla serie dei montaggi su tela poi delle reti e poi scusate poi delle reti e poi dei poliedri in perspex e delle strutture cinetico luminose su questo aspetto su questi pochi anni quindi la seconda metà degli anni 60 mi vorrei soffermare perché è la fase in cui Paola produce le reti che sono il nucleo di queste otto opere donate al Mart dalla sorella Rita vedete qui questo senza titolo del 64 è un montaggio su tela i montaggi realizzati a Roma uniscono l'adozione della tecnica fotografica alla tela si tratta di scatti presi dalla realtà quotidiana quasi colti di sorpresa ed elaborati in camera oscura le cui immagini vengono trasferite sul supporto che può essere nudo o colorato le reti invece di cui qui vedete una delle due proprio restaurate da Fabiana e Michela sono opere realizzate mediante l'assemblaggio di vari elementi e in cui l'immagine principale è rappresentata da riproduzioni fotografiche molto contrastate e impressionate su pellicole trasparenti costituiscono vedete qui scusate una parentesi come in realtà l'esito delle reti ha avuto una storia pregressa molto lunga addirittura Fabiano e Michela hanno rintracciato una fotografia scattata a Venezia nel 1939 e l'hanno poi messa in relazione a una delle delle opere fatte con le reti nel 1967 questo per spiegarvi quanto poteva essere lunga l'elaborazione diciamo della poetica di Paola Levi Montalcini quindi dicevo le reti e qui vediamo anche l'uso della pellicola che poi viene ripresa nelle morsure degli anni 70 costituiscono una serie realizzata tra il 1965 e il 1967 e segnano da una parte il definitivo allontanamento dalle iconografie naturalistiche qui il soggetto principale diventano proiezioni di dettagli di reti da giardino prevalentemente plasmate e deformate sotto la fiamma dall'artista stessa e dall'altra individuano la produzione di passaggio dai montaggi ai poliedri quindi dal quadro o dalla bidimensionalità alla scultura o alla bidimensionalità e qui vedete proprio il passaggio dalla rete in questo caso si tratta di nel deserto quella che tra le due opere è stato possibile restaurare e un poliedro subito successivo dove praticamente l'operazione che fa Paola è quella di far scendere l'opera bidimensionale quindi in forma di quadro dalla parete a terra queste opere in mostra erano poggiate a terra quindi erano diciamo delle figure che riprendevano completamente l'iconografia e la struttura compositiva precedente ma che diventano oggetti poggiati a terra saranno quindi subito dopo i poliedri in perspex questo che vedete a compiere la discesa a terra dell'opera che a breve si trasformerà nella fortunata serie delle sculture cinetico-luminose fra l'altro un nucleo di queste sculture insieme ad opere precedenti un nucleo cospicuo di 30-40 opere è stato donato sempre da Rita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e quindi insomma io le ho potute vedere di persona tra gli anni 70 e gli anni 80 Paola Levi Montalcini si dedicò all'attività grafica realizzando le morsure sul rame e le calcografie tra le ultime opere troviamo le sculture prodotte tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 come questo meccanico organico che sancirono un ritorno totale alla tridimensionalità e poi anche il volume da lei stessa prodotto di scordanze basato sulla computer grafica alla quale lei si era precocemente approcciata tutta la produzione di Paola Levi Montalcini artista d'avanguardia apprezzata dai critici e stimata dai colleghi fu il frutto di attente ricerche e riflessioni che comportarono spesso lunghi tempi creativi lei scrisse le cose mi si evolvono per illuminazioni lentissime sono un compartimento stagno o dipingo o ci penso su molti critici hanno scritto di Paola Levi Montalcini dopo De Chirico Filiberto Menna Giulio Carlo Argan Gillo Dorflex Lara Vincamasini Simonetta Lux e altri ancora nel corso della ricerca per la tesi fatta appassionatamente con tutto il gruppo di lavoro guidato da Grazia De Cesare e fatta in primis da Michela e Fabiana abbiamo riscoperto e recuperato anche però un bellissimo filmato che qui purtroppo non posso mostrarvi perché dura tanto fatto dalla RAI per la regia di Gianna Mazzini e Loredana Rotondo nel 2012 dal titolo Vuoti di Memoria che si apre con una serie di testimonianze sull'operato di Paola Levi Montalcini la prima delle quali è di Mirella Bentivogli una grandissima artista del Novecento che era che conosceva benissimo l'opera di Paola Levi Montalcini l'aveva esposta in mostra e la sosteneva in tutti i modi e che dice proprio all'apertura di questo film Paola era autonoma da tutto anche dalle leggi del sistema dell'arte dalle leggi del mercato da qualsiasi tipo di potere e con questo finisco grazie molte Angela per aver colmato questo vuoto di memoria effettivo che esiste di memoria storica rispetto all'opera e l'operato di Paola Levi Montalcini io passo ora la parola a Fabiana Di Lorenzo già evocata più volte eccomi buonasera a tutti come abbiamo già detto sono una delle due restauratrici che ha avuto l'onore e il piacere di misurarsi con questo restauro impossibile diciamo tra virgolette e vorrei insomma innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno reso questo possibile quindi il Mart e la persona di Clarenza Catullo per averci accordato fiducia e averci affidato queste opere la dottoressa De Cesare e la dottoressa Rorro che ci hanno seguite passo passo in un percorso che si è rivelato molto molto complesso e soprattutto vorrei ringraziare Micaela perché è la persona che ha scovato le opere che le ha portate in istituto e che mi ha consentito di unirmi a questa avventura e le nostre diversità personali ci hanno molto aiutato secondo me ad affrontare questo lavoro così complesso siamo due restauratrici con due visioni diverse ma che forse proprio unendosi scontrandosi e trovando un punto di accordo sono riuscite comunque a portare a termine questo lavoro grazie anche alla guida ovviamente di grazia e per me è stata un'esperienza formativa straordinaria perché ci ha permesso di crescere moltissimo misurandoci con un restauro che appunto ho prima definito impossibile perché delle due opere come abbiamo già detto una diciamo delle due vortice e figura si presentava quando è giunta nei nostri laboratori nell'istituto centrale per il restauro già in uno stato di degrado estremamente avanzato un tipo di degrado non reversibile che si autoalimenta proprio per il tipo di materiale coinvolto diciamo si tratta di appunto pellicole fotografiche di un formato enorme quindi non non consueto diciamo per quanto riguarda il mondo diciamo del restauro della fotografia inserite in diciamo dei pacchetti multimateriale che rendono il tutto ancora più complesso perché nell'approcciarsi ai vari strati diciamo di cui sono composte queste opere bisogna tenere conto delle caratteristiche della sensibilità di ciascuno degli elementi lo stato di vortice e figura era appunto già completamente compromesso diciamo quindi quello che abbiamo potuto fare come vi spiegherà Grazia nel particolare è stato indirizzarci su due su due livelli uno cercare di salvare il materiale per quanto possibile cercare di attutire quantomeno rallentare questo processo di degrado che ormai era diciamo già giunto in un punto senza ritorno e dall'altra parte cercare appunto come ha anticipato anche la dottoressa Catullo di dare una possibilità di una vita a lungo termine a queste opere e quindi cercare di salvare l'immagine su un supporto digitale passerei quindi la parola a Grazia che vi spiegherà diciamo tutte le fasi dell'intervento e buona proseguimento grazie prego dottoressa di Cesare Buonasera a tutti ecco che tocca a me alla fine il prestigioso compito di presentarvi questo restauro che ho guidato come relatore e coordinatore nel lavoro di restauro ma che è stato fatto con una grande caparbietà da queste due ragazze Fabiana e Michaela è molto commovente per me raccontarvi questo lavoro perché è stato un lavoro durato un anno e non l'avrei presentato io di solito non lo presentiamo noi adulti diciamo noi restauratori docenti ma lo presentano direttamente gli ex studenti i laureati i giovani restauratori come è giusto che sia perché la formazione che l'istituto mira e ha sempre mirato a dare è stata una formazione di prestigio per introdurre in un mondo immediatamente di prestigio professionalmente e quindi questo lavoro così importante è stato un lavoro di grosso sacrificio per queste due ex allieve ma come sempre sono di solito i lavori di restauro presso l'istituto purtroppo lo presento io perché Michela è prematuramente scomparsa e resta nel nostro cuore nei nostri pensieri nei nostri sogni e la Fabiana in questo momento non è in piena forma per cui per la sua serietà non ha voluto esporsi a un prolungato dover parlare non avendo da piena forma fisica ma come vedete le scappa da sotto di intervenire e raccontare con energia e passione il lavoro che hanno fatto allora lo faccio io che le ho seguite e rileggendo questo lavoro a distanza di ormai un paio d'anni rileggendo e sfogliando rapidamente queste 450 pagine lì dove non ricordavo dei passaggi mi sono resa conto che è stato un percorso di conoscenza molto approfondito che ha aperto tanti capitoli di studio e ci ha dato tante informazioni come spesso queste tesi portano la scelta su queste opere di fatto è stata una vera sfida siccome si era partiti da vortice figura che aveva un degrado molto più avanzato io temevo che non si arrivasse a nulla cioè temevo che già solo non si riuscisse a togliere il coperchio dell'opera perché sembrava un insieme di materiali inscindibili per cui ho spinto Michela che aveva fatto il sopralluogo a scegliere anche qualcosa di più semplice e nel deserto è stato quindi aggiunto per questa è stata aggiunta per questa ragione e di fatto si è rivelata molto più semplice ma anche lei ha offerto le sue difficoltà nell'intervento quindi in questa serie di reti che già sono state spiegate entriamo direttamente sulla nostra opera allora vortice figura si presentava in questo modo multimateriale dove c'era un pannello come struttura di sostegno un listerlare di legno dipinto da una parte con il colore rosso dall'altra parte con uno strato metallico argenteo e poi due pellicole accoppiate queste pellicole famose trasparenti con impressione fotografica che di fatto si tratta di un supporto intriaccettato di cellulosa con un'emolzione fotografica in cui sono disperti degli inerti che sono allogenuri d'argento che per un'impressione fotochimica vengono appunto impressionati dall'immagine e poi c'era una lastra di chiusura in polimetri metacrilato cioè il materiale che poi nella dicitura così quotidiana chiamiamo tante volte perspex fra gli altri che sono semplicemente dei nomi industriali di marche di produzione questa è la statigrafia riportata con la sua cornice che di fatto era un sistema di contenimento che non aveva un dente di battitura come le normali cornici per cui era assemblato e chiuso il sistema con un adesivo che già ci faceva capire si vedevano un po' delle sbavature di adesivo che sarebbe stato difficile aprirli poi il lamellare dipinto che dalle analisi che sono state fatte nel gruppo di lavoro che naturalmente aveva il laboratorio di chimica Marcella Ioelen era il relatore principale è risultata una pittura alchidica con una pellicola in alluminio e un adesivo che lo fissava al pannello queste sono state le serie di analisi che sono state fatte in sezione luci dal SEM sono state riviste diciamo tutte le composizioni nel dettaglio per arrivare a definire esattamente i materiali quindi era un triacetato di cellulosa noi avevamo già avuto esperienza col diacetato di cellulosa che è un materiale diciamo di diffusione precedente il triacetato voleva correggere nel mercato sul mercato il comportamento troppo igroscopico del diacetato che portava delle deformazioni che sicuramente non giovavano alla conservazione anche delle pellicole negativo fotografico e quello che vedevamo però come un effetto insolito che non ci apparteneva perché il diacetato infatti non ne fa uso erano questi cristalli bianchi che vedete nella foto in basso a sinistra e che sono stati poi identificati come un materiale antifiamma e plasticizzante di natura molto tossica e pericoloso da manipolare qui vediamo le tecniche di esecuzione e un problema il problema principale del triacetato di cellulosa è che va incontro alla sindrome acetica che vuol dire una sorta di disfacimento del polimero una depolimerizzazione che libera acido acetico e di fatto già solo di emettere un acido questo stesso acido diventa il motore dell'ulteriore degrado di questo stesso polimero continuandolo quindi a frantumare questo sistema diciamo di acidità conosciuta viene riportata in alcune tabelle di conservazione per la fotografia lì dove la pellicola fotografica si può conservare anche in frigorifero allora si dice che se noi mettessimo questo materiale in un frigorifero a 4 gradi a 50% di umidità durerebbe 400 anni prima di arrivare a diventare acido e depolimerizzato ma se noi lo teniamo in condizioni museali standard come siamo abituati nei nostri musei cioè 21 gradi e il 50% di umidità in 45 anni questa sindrome acetica avrà quasi distrutto il nostro materiale e una volta che arriva al degrado così spinto con un'acidità pari a 1 ci vorranno 5 anni soltanto per portarlo a un ulteriore degrado che vuol dire il collasso del materiale quindi se un'opera arriva a noi dagli anni 60 è già in fin di vita perché è stata conservata in condizioni proibitive negli archivi fotografici in genere si fa attenzione a duplicare i negativi proprio perché si conosce il degrado inarrestabile di questi materiali ecco che stiamo misurando quindi con un pH metro a contatto il livello di acidità della superficie c'erano delle gore che avevano delle macchie quindi di acqua che era percolata sul pannello che cosa significa che l'acqua era entrata nel sistema non poteva uscire dal foglio dalla copertura di polimetil metacrilato per cui ristegnava acqua avendo sul fondo un pannello bagnato questo ha ulteriormente aiutato perché diciamo che insomma il pH si sviluppa con acqua se non c'è acqua siamo in una situazione anidra non si sviluppano le azioni di idrolisi e quindi di rotture il pannello l'opera si presentava così vista da vicino piena di questi spot bianchi che per noi erano del tutto ignoti e chiedevamo anche a nostri ex allievi che sono ormai alghetti analaganà esperta di plastiche se l'avesse mai vista non l'aveva mai vista facendo le analisi questo è il risultato trifemilfosfato cioè il famoso ritardante di fiamma questo ci sembrava il problema principale da capire poi l'abbiamo capito ma da risolvere da risolvere di fatto è questo il problema irrisolvibile che va di pari passo con il degrado dell'acetato di cellulosa questo materiale interagisce con l'acido che viene prodotto dal film di cellulosa e a sua volta riproduce un acido forte per cui sono sistemi che si autodisintegrano allora visto da vicino questo sistema era impressionante ma la pulitura poteva eliminare i sali affioranti il problema è che questi sali continuano a ritornare in superficie quindi l'opera finché era in restauro è stata più volta pulita ma sapevamo che dopo pochi giorni a rientro nel museo avrebbe dovuto avere una continua manutenzione altrimenti è un fenomeno inesauribile altre cose che sono state studiate si vede che c'è una fortissima deformazione di questi pannelli di questi attracciati di cellulosa che ne erano due l'emulsione fotografica altro non è che una colla è una colla cioè un materiale pieno di collagene iperreattivo con l'umidità per cui i due fogli fra loro si erano saldati perché basta un po' di umidità per riattivare la colla e quindi si erano fra loro fissati deformandosi ognuno come poteva per i fatti propri e quindi strappandosi a vicenda proprio perché il materiale sviluppa nel tempo fenomeni di contrazione molto importanti e se i due pannelli fossero stati liberi di muoversi ciascuno per proprio conto si sarebbero quasi forse salvati invece siccome erano vincolati fra loro dalla colla si sono incollati e strappati nei punti più cedevoli queste sono foto radenti che ci fanno vedere quanto fossero illegibili e inseparabili i pannelli fra loro i due fogli trasparenti e quest'altro è un sistema che si chiama DEM cioè una modellizzazione delle un altimetro mi insegnerebbe il collega Mauro Torre cioè ci mappa con colori diversi i diversi punti di deformazione che raggiunge il pannello parecchie lacerazioni queste lacerazioni erano fissate con nastri adesivi c'era un problema di deadesione dell'emulsione fotografica sono queste bolle che vedete qui in alto quindi si stacca direttamente la pellicola fotografica che è quella che porta l'immagine e poi i corrugamenti della gelatina che sono invece queste sorte di arricciature e poi si formavano come delle croste argente che erano invece i residui dell'argento dell'ologenuro d'argento che è quello che dà il colore nel deserto paradossalmente stava tutto meglio e da che eravamo molto preoccupati per il pannello trasparente nell'altra opera qui il problema non era sul pannello trasparente perché andiamo a fare le analisi non si tratta più di triacetato di cellulosa l'artista acquistava queste pellicole che erano della Kodalit si chiamavano Kodalit della Kodak che erano appunto vendute in grandi rotoli in grande formato compra le cose nello stesso anno ma c'è un passaggio tecnologico abbandonano il triacetato di cellulosa e lo sostituiscono finalmente con il poliestere il poliestere è una pellicola che non risente assolutissimamente dell'umidità pertanto tutti i problemi che trovavamo sulle pellicole precedenti qui non esistono l'emulsione fotografica rimane stabile il problema non è sul pannello il problema si sposta perché qui abbiamo sul fondo come struttura di sostegno non più un lamellare di legno che comunque faceva passare l'umidità e quindi aveva i suoi problemi quindi ci troviamo con un pannello invece di polimetilmetacrilato per metà dipinto da una nitrocellulosa e per metà invece con una pittura color bronzo questa pittura si trova sul retro del pannello in esposizione questi erano i problemi che presentava la pittura in bronzo evidentemente c'erano stati dei graffi questi graffi sono stati ritoccati già forse nello studio dell'artista come Angelo Lientile che gentilmente si è prestato a darci tante informazioni e concederci delle interviste però che cosa succede che anche se usi lo stesso materiale c'è un'alterazione diversa nel tempo e quindi si vedevano delle grosse risarciture come macchie della parte così che doveva essere una campitura omogenea vista attraverso il filtro trasparente della lastra con emulsione c'erano poi dei problemi banali di disordine perché evidentemente questa struttura di contenimento questa sorta di cornice non funzionava appieno per cui erano entrati degli insetti e c'erano anche morti dentro e quindi vedevamo che era stato aperto e chiuso e da una parte si era deformato il pannello tanto che era tenuto dallo scotch quindi qui c'era un problema di natura completamente diversa per colamenti diretti l'acqua eccetera e poi il problema principale era sui graffi che cosa avevano fatto per stabilizzare la pittura a bronzo non si sa se immediatamente dopo quel ritocco così che poi si è alterato è stato steso anche una pellicola è stata stesa una pellicola di PVC con adesivo a freddo acrilico su tutta la pittura a bronzo quindi di fatto non c'è più accesso a questa pittura a volerla pulire o ritoccare perché si dovrebbe rimuovere tutta questa pellicola trasparente che farebbe strappo e porterebbe via tutta la pittura originale a bronzo e poi c'erano dei graffi anche sul giallo che quindi si vedevano perché passava la luce attraverso non essendoci un fondo colorato questi sono dei dettagli graffi eccetera allora come si procede abbiamo cercato di aprire la nostra cornice meccanicamente con delle spatole da carrozziere abbiamo fatto tutte le analisi preliminari per caratterizzare i materiali ma abbiamo cominciato con le nostre prove di solubilità le prove di solubilità non vengono fatte nell'ambito della pittura contemporanea dei materiali di plastica contemporanea tanto per pulire qualcosa ma vengono fatti per testare la resistenza dei materiali ai solventi perché i solventi non servono solo per la pulitura ma sono da compagno a tanti materiali durante tutte le fasi del restauro ci siamo fatti aiutare anche dall'istituto della catalogazione perché ci hanno dato dei provini e sui provini abbiamo fatto sui provini quindi di lastrine fotografiche dello stesso materiale con la stessa adattazione ci siamo esercitati a fare tante prove e poi abbiamo rifatto noi delle maquette come facciamo sempre insomma quando dobbiamo mettere a punto una strategia e un sistema di intervento su materiali che non sappiamo come possono rispondere e con quali dei nostri materiali di restauro meglio si abbinano e quindi ci siamo ricostruiti la parte bronzea l'abbiamo rimesso la pellicola sopra l'abbiamo staccata abbiamo fatto i graffi e su questo poi si è lavorato per trovare le giuste forme di integrazione e di soluzione quali erano i problemi bisognava separare le due pellicole bisognava riuscire a capire le immagini separate ridare planarità a questi teli si è visto che era tutto molto complicato nella scelta dei materiali quello che funzionava meglio erano dei getti di vapore freddo quindi con uno strumento a ultrasuoni si usa un'umidificazione per separare gli strati che cosa è potuto succedere nella separazione sono stati dei frammenti che si sono trasferiti sul foglio che si trovava nella parte più alta e quindi abbiamo perso dei frammenti da una parte che si sono trasferiti dall'altra sono stati messi in sicurezza tutte le lacerazioni con un nastro che si chiama micro por da 3m che è quello che si usa per uso medicale che è un tessuto non tessuto non adesivo a freddo e poi si sono fatti tutti i preliminari cioè tolti tutti gli scotch fotografici che erano tutti gli scotch che fissavano le lacerazioni della lastra fotografica si sono mappati e messi da parte tutti i frammenti che si erano staccati che poi sono stati quindi ricollocati e cominciata la pulitura la pulitura da indagini di letteratura e da prove fatte quello che funzionava meglio era usare l'alcol etilico per rimuovere tutti questi questi spot bianchi che di fatto erano sali ma per fare un lavoro più selettivo sono stati caricati su degli idrogel che sono i gel di nuova concezione sono dei gel fisici nanostrutturati e caricati appunto con il nostro alcol e poi puliti con spugne e microfibra per eliminare il materiale rigonfiato e questi sono i passaggi è molto più complicato di quello che vi racconto perché poi tutte le ragazze facevano continuamente le prove di pH facevano le prove di misura alcolorimetrica di gloss quindi per tenere continuamente aggiornato il sistema da dove eravamo partiti quali erano i punti di riferimento che erano in migliore stato di conservazione come la pulitura riportava ai valori accettabili di lettura colorimetrica tutto il sistema la planarità è stata provata siccome è un'operazione molto stressante perché per ridare planarità si usa umidità e si deve schiacciare questo è un materiale che è apparentemente croccante quindi lo abbiamo fatto prima per mettere appunto il sistema sui famosi provini e poi l'abbiamo fatto solo su un foglio sul nostro tavolo aspirante usando il Goretex che è una membrana che cede l'umidità molto lentamente quindi bagnando il Goretex con un foglio di carta assorbente inumidito e cedendo quindi al lentissimo rilascio questa umidità per cercare di appianare le grandi deformazioni che impedivano la lettura dell'opera ma la fotografia dell'opera non si poteva nemmeno documentare c'è stato lo spianamento localizzato di tutte queste creste che si erano andate a lacerarsi e il materiale si indurisce molto non immaginate una pellicola trasparente flessibile è qualcosa di molto rigido molto croccante che quando flette si piega più facilmente si spezza perché ormai è molto depolmorizzato e non lavora più il plasticizzante quindi questi sono tutti i lavori complicati che sono stati fatti e la Michela si è concentrata sullo studio di materiali tipo scotch quindi ha fatto tutta un'indagine di materiali trasparenti che potevano aiutarci a risarcire e tenere i frammenti in posizione mentre poi la Fabiana si è concentrata sullo studio di tutti quei materiali che potevano servire invece come adesivi potevano svolgere la stessa funzione ma come adesivi e abbiamo cercato però lei si è concentrata in un studio molto interessante sulle nanocellusose cioè riprodurre la cellulosa partendo da materiali nanostrutturati e diciamo che sono gli ultimi livelli che in quel momento si stavano testando con gruppi di ricerca internazionali per le suture di queste grandi lacerazioni loro hanno veramente ispezionato tutti i materiali plastici laminati studiando nel comportamento meccanico sia riportato in tabelle commerciali sia testando con il laboratorio di fisica e il professor Moro Torre gli stessi materiali per arrivare a una buona selezione sono stati sovrapposti per un centimetro sull'originale è stato rifatto tutto a forma e sono stati scelti i materiali che hanno dato le migliori condizioni di non tensionamento cioè il polipropilene era il materiale più cedevole fra quelli testati quindi un materiale che poteva servire per coprire otticamente i vuoti le lacune e addirittura gli inserti sono stati a loro volta sezionati come vedete nel tratteggio proprio perché non volevamo in nessun modo creare tensioni quindi tutto il materiale che è stato inserito è un materiale che non porta allo sviluppo di tensioni interne invece l'opera più semplice per virgolette nel deserto è stata pulita con soluzioni acquose con triammonio citrato all'1% che è un chelante appoggiando questi gel rigidi in questo caso non erano i gel nanostrutturati ma banalmente il nostro gel lano che è il gel che ormai è in uso diffuso presso i restauratori completamente trasparenti appoggiato a tempi di contatto diciamo di molto minori rispetto a quelli dei gel nanostrutturati e poi puliti questo come vedete in ultima foto mezzo pulito e mezzo sporco quello che rimanevano erano questi effetti cioè dei materiali diciamo un po' disordinati le macchie del ritocco e delle lacerazioni che si percepiscono dal davanti come un colore poi ormai di un'altra tonalità è stata fatta riaderire la gelatina si è usata una gelatina fotografica per questo scopo quindi si è iniettata la gelatina fotografica al 2% per la riadesione mentre si sono tolte eliminate le parti corrugate lì dove non erano portatrici naturalmente degli allogenuri che facevano disegno e immagine e sono stati ripristinati a pennello con gelatina di nuovo al 5% e invece il pvc era un problema come farlo riaderire perché benché si testassero tanti tipi di prodotti come vedete tutti gli adesivi che sono di sotto elencati di fatto introducendo siccome bisognava ficcare l'adesivo fra il pannello trasparente che era poi lo schermo attraverso il quale diciamo il fruttore vedeva il color bronzo bisognava mettere l'adesivo fra questo pannello trasparente e la pellicola bronzea quindi sarebbe stato un ulteriore filtro e in tutte le prove realizzate l'esito non era buono perché si vedeva più l'adesivo che non il color bronzo allora l'idea è stata quella di sotturare dal retro e sfruttare uno di questi fogli che Fabiana era riuscita a produrre di cellulosa di nanocellulosa e questo era un foglio di nano cristalli di cellulosa che erano quelli che meccanicamente testandoli abbiamo verificato che erano i più resistenti l'abbiamo applicato con un acrilico spray della 3M che si chiama 3M Photo Mount che è reversibile in un solvente che il di etil carbonato posizionato in organo gel non passa e non filtra attraverso la pellicola in PVC senza danneggiare quindi in nessun modo la pittura bronzia e poi si sono concentrati sui ritocchi hanno provato tanti tipi di legante e alla fine il risultato migliore è stato dato dall'acquerello quindi dalla gomma arabica per il giallo e allo stesso modo c'è stato il reintervento su pigmento con pigmento e gomma arabica anche per il bronzo un problema rimaneva la cornice che di fatto siccome non aveva un dente di chiusura e un aggancio sul fronte di battitura è stata inglobata in una L diciamo anche la cornice di polimetino metacrilato nero lucido è stato inglobato in una L che quindi mantiene l'originale e costituisce però il dente che serve per chiudere in maniera reversibile senza adesivi tutta la stratigrafia e poi abbiamo proposto non imposto per quanto riguarda il bronzo di inserire un ulteriore pannello in poliessere leggero dipinto bronzo omogeneo quindi non perdiamo l'originale ma è come in un ritocco usiamo un pannello omogeneo perché il monocromo di quel bronzo è impossibile noi questo lo abbiamo interpretato come un intervento reversibile se si dipingesse tutto l'originale sarebbe un intervento assolutamente irreversibile e poi in questo caso era anche impossibile avresti dovuto dipingere sul polimetilmetacrilato nel lato sbagliato non dove era stata data la pittura prima quindi volendo si inserisce questo pannello che fa vedere quindi in maniera omogenea il bronzo diversamente si sottrae e non c'è nessun problema quindi questa è la la fine del restauro normale e questo quindi dove restano delle macchie che sono indelebili perché inaccessibili perché c'è un film di pvc da una parte e dall'altro di polimetilmetacrilato che non danno accesso alla pittura e qui avendo inserito invece sotto al foglio emulsionato con l'immagine il bronzo tutto questo naturalmente si è verificato che dopo un po' si riproduce quanto vi dicevo quegli spot bianchi quindi con le prove colorimetriche si andava a ripuntare su zone già note e si vedeva che andavano di nuovo a sbiancare sono state ripulite più volte e quindi si dice che ci vuole una manutenzione continua di questo manufatto per poterlo esporre tutto in funzione originale ma alla luce di tutto questo alla luce di tanti esempi museali e non di repliche che addirittura sostituiscono completamente l'originale ci siamo concessi una possibilità noi siamo per la conservazione del materiale originale perché la nostra scuola brandiana questo ci insegna non possiamo restaurare la sola idea ma la materia che è portatrice di quell'idea quindi per noi è importantissimo salvare il materiale originale abbiamo fatto di tutto ma c'è un limite su certi materiali che in maniera assolutamente irrecuperabile vanno avanti verso una chimica del degrado che è stata progettata le plastiche soprattutto se non avessero questo loro seme all'interno di autodistruzione sarebbero più di quanto non sono già uno dei problemi da risolvere cioè come distruggere questa plastica dopo averla usata allora di fatto noi ci siamo concessi di riprodurre il negativo come si suol dire di quella immagine di uno dei due pannelli che era il più danneggiato di vortice e figura al fine di poter non rifare completamente l'opera e quindi fare una copia ma di poter replicare solo uno dei due pannelli in caso il suo degrado avanzasse tanto da non poter più esporre l'opera invece mantenendo tutti i materiali originali ma sostituendo quell'unico pannello che ha in sé però abbiamo duplicato l'immagine tal quale e non viene ripetuta all'infinito sminuendo quindi sia economicamente piuttosto che l'unicità del lavoro fatto dall'artista abbiamo suggerito che si può eventualmente stampare della giusta misura con la tecnologia che avanza quindi con gli ultimi risultati sui materiali più stabili per sostituire solo quell'elemento e questo ci è sembrato tanto più in linea con un artista così moderna dove la tecnologia è solo uno strumento nelle mani dell'artista per cui lei non ha scelto di farlo in acetato di cellulosa perché ha scelto semplicemente una pellicola trasparente e ha preso quello che il mercato dava come ultima migliore qualità la stessa marca ha sostituito l'acetato di cellulosa e ha messo il poliestere non necessariamente ne era a conoscenza dell'artista ha comprato il prodotto che si chiamava sempre allo stesso modo pertanto noi non pensiamo che se lei avesse potuto ulteriormente migliorare o modificare con altra tecnologia questa stampa fotografica l'avrebbe disdegnata perché a lei interessava di stampare su un foglio trasparente qualcosa che aveva modificato lei stessa come faceva clasmando le sue plastiche fotografate e riprodotte in questo sistema il restauro digitale ha permesso di aggiustare tutti i riflessi della fotografia rispostare i frammenti ricollocare completare le immagini e quindi virtualmente ha riproposto l'immagine perfetta finale completamente piana senza deformazioni che può essere ristampata in qualunque momento di questo lavoro quindi ringrazio il Mart per la fiducia per le opere bellissime che ci ha dato ringrazio tutti quelli del gruppo e dei correlatori che sono tantissimi che sono stati tantissimi e che hanno dato tutto il loro contributo preziosissimo e in questa serata così piacevole e così allegra non posso non pensare a Filippo e Giulio e un abbraccio per sempre amici grazie grazie a tutti